Musica Buona giornata, nuovo appuntamento con l'informazione su Telestense. Apriamo subito con una notizia arrivata proprio pochi minuti fa perché è Parma, la capitale italiana della cultura 2020. Disegnata dalla giuria presieduta da Stefano Baia Curioni, la vincitrice è stata annunciata proprio questa mattina dal ministro dei beni culturali del turismo Dario Franceschini. Le finaliste ricordiamo che erano Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso. Queste appunto le candidate alla vittoria e ricordiamo ancora quindi ha vinto Parma. Adesso invece capiamo argomento, torniamo a occuparci del caso di Igor. Sono arrivato in Spagna il 21 settembre in bicicletta. A confessarlo appunto è Igor, il serbo accusato di tre omicidi nel paese iberico e di almeno due in Italia commessi ad aprile 2017 tra le province di Bologna e di Ferrara. L'avrebbe detto lo stesso Norbert Fer nell'interrogatorio davanti ai magistrati di Alcaniz quando fu interrogato dopo il suo arresto a metà dicembre. Secondo quanto riportano i media spagnoli, il killer ha detto di aver usato 23 identità diverse nella sua latitanza e che dopo il suo arrivo in Spagna a settembre avrebbe lavorato per un periodo nella raccolta della frutta a Lerida e che ha vissuto in comuni nei pressi di Valencia prima di trasferirsi a Teruel dove sarebbe stato da fine novembre o inizio dicembre e dove poi ha ucciso ricordiamo anche due agenti della Guardia Civil e due allevatori. Dopo, sempre secondo il suo racconto, sarebbe voluto tornare nella zona di Valencia dove aveva anche alcune conoscenze. Torniamo in città perché nasce a Ferrara il registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento, le volontà in sostanza sulle cure da ricevere o rifiutare nel caso in cui ci si trovasse ad essere incapaci di intendere e di volere. Un registro che nasce a seguito della nuova legge 219 del 22 dicembre 2017, la cosiddetta legge sul testamento biologico. Vediamo. L'obiettivo è quello di promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone anche nella fase terminale della vita umana, facendo scegliere a ciascuno quali cure accettare o meno nella previsione di una futura incapacità di intendere e volere. Oggi queste volontà si possono lasciare in un apposito registro comunale, creato per dare applicazione alla legge sul testamento biologico approvata alla fine del 2017. Le disposizioni anticipate di trattamento sono disposizioni che chi è interessato a notificare alle strutture sanitarie il proprio consenso di senso sui trattamenti sanitari può presentare in tre diverse modalità. Per atto pubblico, per scrittura privata presso un notaio, oppure per scrittura privata semplice in busta chiusa all'ufficiale di Stato civile. Noi ovviamente ci occupiamo di questo. Il disponente che deve essere residente nel comune di Ferrara, deve essere capace di intendere e di volere, può depositare le proprie disposizioni che ovviamente devono essere coerenti con quanto consente la legge. Chi si iscrive al registro può, non deve, ma la legge lo consiglia, nominare un fiduciario. Qualora non fosse in grado di interloquire, per condizioni di salute, di interloquire con la struttura sanitaria, col medico curante, il fiduciario è quello che rappresenterà la volontà ante questo evento di incapacità di autodeterminarsi sostanzialmente. La procedura per quanto ci riguarda noi come comune, cioè quindi la presentazione in busta chiusa di questa disposizione anticipata di trattamento, è molto semplice. Si va presso, si prende un appuntamento con l'ufficio di Stato civile, ci sono i numeri sul sito del comune di Ferrara rispetto a questo tipo di prestazione, si presenta con il fiduciario, devono essere compilati alcuni modelli già predisposti e viene consegnato e tutto ciò viene registrato in un registro che è stato predisposto e conservato con le garanzie della tutela della privacy sostanzialmente. Infine, nella nostra regione, dove esiste il fascicolo sanitario elettronico, verrà disposta una sezione in cui ogni utente potrà scrivere le proprie DAT oppure segnalare di averle registrate presso il comune. La registrazione presso il comune è una pratica completamente gratuita e con lo stesso valore legale del lato pubblico o della scrittura privata che invece vanno fatti da un notaio. Oggi a Ferrara esiste già un registro con circa 90 testamenti biologici depositati, atti che verranno trasferiti nel nuovo registro con lo stesso valore legale che la normativa nuova dispone. E adesso un'attrizia di notizia per la nostra città perché all'età di 84 anni è venuta a mancare Luana Vecchi, una delle figure di spicco a Ferrara del femminismo e del sindacato. Nel suo lungo impegno tra politica e associazionismo, Luana Vecchi è stata consigliere comunale tra le fila del PC, ha fatto parte della CGL ed è stata impegnata anche nello SPI, nell'Udi di Ferrara e nel gruppo Salute Donna. Molti messaggi di cordoglio giunti alla scoperta della sua scomparsa, tra cui quello della segreteria dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Ferrara, che dice Adesso invece cambiamo argomento, parliamo di politica, perché le prossime saranno le prime elezioni politiche, sulle quali si voterà in un solo giorno, ovvero solo di domenica, dalle 7 alle 23. La legge di stabilità del 2013 ha infatti introdotto alcune modifiche al procedimento elettorale, con il comma 399, che stabilisce che a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata di domenica, appunto come dicevamo poco fa, dalle 7 alle 23. Ma vediamo come la nuova legge distribuisce seggi ed elettori nei collegi della circoscrizione Emilia-Romagna. Il Rosatellum divide il territorio dell'Italia in circoscrizioni, 28 per l'elezione dei deputati e 20 per l'elezione dei senatori, più due circoscrizioni estere, rispettivamente una per la Camera dei Deputati e una per il Senato. Al Senato le circoscrizioni, come ad esempio accade per l'Emilia-Romagna, sono in molti casi coincidenti con la Regione. Alla Camera le regioni più vaste, come Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia, comprendono più circoscrizioni. L'Emilia-Romagna è un'unica circoscrizione suddivisa in 17 collegi uninominali e 4 plurinominali per la Camera dei Deputati, 8 collegi uninominali e 2 plurinominali per il Senato. I collegi plurinominali, i cui seggi sono assegnati con voto proporzionale, sono costituiti dal raccorpamento di più collegi uninominali. Gli Emiliano-Romagnoli voteranno per avere 45 seggi alla Camera dei Deputati, 17 con il sistema uninominale e 28 con il sistema proporzionale. Avranno invece 22 seggi al Senato, 8 con il voto uninominali e 14 con il voto proporzionale. Ma quali sono i collegi uninominali dell'Emilia-Romagna? Vediamoli in queste mappe, partendo dai collegi per il voto alla Camera. Gli uninominali per l'elezione dei Deputati ruotano sostanzialmente intorno ai confini delle province. Solo le città principali, Parma, Modena, Reggio Emilia-Bologna, ne hanno più di uno. Infine, un collegio uninominale è stato riservato ai comuni del terremoto, alcuni ferraresi e altri modenesi. I collegi plurinominali della Camera sono 4 e comprendono territori più ampi, uno per la provincia bolognese, uno per la Romagna, uno per Modena e Ferrara, uno per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Al Senato, gli 8 collegi uninominali corrispondono all'incirca alle province. I due collegi plurinominali raggruppano invece l'uno, la Romagna, il bolognese e buona parte del ferrarese, l'altro, le restanti aree della Regione. E adesso ci spostiamo, andiamo in Regione per la cronaca, 121 mila euro scovati nelle valigie di quattro persone all'aeroporto di Bologna. Per vedere cosa è successo lo scopriamo nel servizio. Tornavano in Italia, dove risiedono dall'Azerbaijan, dall'Argentina e dal Camerun, nascondendo nei loro bagagli a mano cifre incontanti non dichiarate, comprese tra i 23 mila e i 40 mila euro, per un totale di 121 mila euro. I funzionari dell'ufficio delle dogane di Bologna e i militari della Guardia di Finanza bolognese hanno però scovato i soldi nascosti tra i vestiti e i quattro, due camerunensi, un a zero e un italiano, hanno deciso, spiegano le fiamme gialle, di sanare la loro posizione, pagando una sanzione pari al 15% della parte eccedente, il limite consentito dei 10 mila euro. I finanzieri hanno scoperto i soldi negli ultimi quattro giorni di gennaio durante dei controlli di routine, che ultimamente sono stati intensificati, diventando sempre più stringenti. I quattro, fanno sapere dalla Guardia di Finanza, non hanno precedenti specifici, mentre i tre stranieri sono regolari sul territorio. Infine, anche se l'irregolarità è stata sistemata con il pagamento della multa, sono in corso ora verifiche per accertare un'eventuale provenienza illecita del denaro stesso. E adesso rimaniamo sempre a Bologna, ma per parlarvi di una mostra che inaugura domani, perché dal 17 febbraio al 17 giugno il lapidario del Museo Civico Medievale in Via Manzoni, appunto a Bologna, ospita l'esposizione Medioevo Svelato, storie dell'Emilia Romagna attraverso l'archeologia. Vediamo di che si tratta. Dal Missorium d'Argento Cesenate, che testimonia la vita agiata di un possidente terriero della tarda antichità, ai vasellami di età bizantina provenienti dal Ravennate. Al Museo Civico Medievale di Bologna è in mostra una selezione di oltre 300 reperti recuperati dalle intense ricerche archeologiche condotte in regione negli ultimi 40 anni. Inaugura domani Medioevo Svelato, storie dell'Emilia Romagna attraverso l'archeologia, mostra che racconta le vicende con cui i goti, i longobardi, i bizantini e nuovi centri di potere, quali castelli, monasteri e comuni, hanno scritto la storia dell'Emilia Romagna nel passaggio dal mondo antico verso l'età moderna. Speriamo di vedere finalmente, dopo 30 o più anni di ricerche archeologiche che hanno interessato i contesti medievali, di vedere i risultati di queste ricerche che sono state in gran parte condotte dalla soprintendenza archeologica che danno appunto ragione dell'importanza di questi ritrovamenti e della capacità che questi ritrovamenti hanno per ricostruire narrazioni diverse del Medioevo. Questi materiali provengano da tutte le province della regione, quindi fanno parte di ricerche archeologiche che si sono sviluppate nel corso appunto, come si diceva, soprattutto degli ultimi 30 anni, ovunque in questa regione, in città come in ambito rurale, nei monasteri come nei castelli. Quindi una panoramica a 360 gradi sulle varie tipologie di insediamento che hanno caratterizzato nel lungo Medioevo la nostra regione. Da un punto di vista cronologico noi abbiamo utilizzato una cronologia tradizionale, cioè a dire dalla fine dell'impero romano, l'occidente, con una data da cui si fa tradizionalmente terminare l'antichità, fino all'età della scoperta dell'America, 1492. Naturalmente l'ultima sezione, la più recente, si focalizza soprattutto sull'età dei comuni. La mostra, in esposizione fino al 17 giugno, si inserisce nel programma culturale 2200 anni lungo la Via Emilia, nato per ricordare la fondazione romana di Modena, Parma e Reggio Emilia. Oltre a visite guidate e laboratoria, in programma un ciclo di conferenze gratuite che illustra le prospettive di ricerca offerte dall'archeologia medievale. Trovate sia materiale di tradizione romana, delle ultime ville romane che sono sopravvissute alla caduta dell'impero d'Occidente, sia i resti prevalentemente provenienti da Corre di Tombali, delle genti straniere che sono penetrate in regione, quindi Goti prima e Longobardi dopo, sia quella che era la documentazione delle città di tradizione romana e bizantina, come Ravenna, fino poi alla crisi, alla rinascita delle città, da un lato, dei castelli e del territorio di campagna dell'Alto Medioevo. E adesso passiamo invece alla musica, perché è stato presentato Buon Compleanno Lucio, un concerto che si terrà al Teatro Nuovo dedicato ovviamente a Lucio Dalla, ma a parlarcene è stato il frontman del gruppo Controcanto, Fulvio Bertolino. Sabato 3 marzo il Teatro Nuovo proporrà il concerto Buon Compleanno Lucio, un omaggio a Lucio Dalla, con la presenza tra gli altri del basso Ludovico Creti e degli studenti del Liceo Carducci e dell'Istituto Vergani come parte attiva dello spettacolo. Protagonista dell'evento, la band ferrarese Controcanto. Sarà un concerto dove omaggeremo questo grande autore della musica italiana, Ferraro del nostro conterraneo, Lucio Dalla Bolognese, come tutti sappiamo. Il concerto sarà fatto, non a caso, il 3 marzo, in quanto il 4 marzo, come tutti sappiamo, è il titolo di una delle sue canzoni più famose, che è la sua data di nascita. Sarà un concerto del nostro gruppo, un gruppo Controcanto, l'anno scorso abbiamo fatto il tributo a Fabrizio D'Andrea, quest'anno invece omaggeremo appunto Lucio Dalla, ma non solo, ci saranno anche canzoni di altri cantautori che sono quelli che nella carriera di Lucio sono stati a lui più vicini, ossia Ron, De Gregori e Morandi, quindi ci saranno anche altri cantanti sul palco, oltre al nostro gruppo. L'immagine e la figura di Dalla rimane ancora molto forte anche nei più giovani? Beh, diciamo che comunque è un autore che rimarrà sempre come De Andrè, come Guccini, come De Gregori, insomma come i grandi della nostra musica. Sicuramente adesso i giovani ascoltano altre cose, ma io penso che le canzoni tipo Piazza Grande, tipo Caruso, eccetera, penso che siano di dominio pubblico, che sono un patrimonio italiano, culturale, ecco non solo musicale. Non ho detto che sul palco ci sarà anche un cantante che si chiama Attilio Fontana, che viene da Roma ed è un attore, cantante, che ha già partecipato a tale quale show di Carlo Conti, vincendo appunto l'edizione di due anni fa, interpretando futura appunto la canzone di Dalla. Quindi abbiamo conosciuto questo cantante, l'abbiamo invitato e lui è venuto molto volentieri, quindi ci sarà anche un qualcosa in più, ecco diciamo. Il luogo dell'innovazione è del turismo sostenibile, è così che si dovrà caratterizzare l'ex Teatro Verdi, che già in autunno potrebbe iniziare la sua nuova vita. A breve uscirà il bando per la gestione a metà tra pubblico e privato e dovesse andare deserto, il Comune assicura che interverrà direttamente per la gestione. Vediamo. Non sarà un teatro, ma lo spazio cittadino dell'innovazione, descrive così Massimo Maisto, assessore alla cultura del Comune di Ferrara, quello che l'ex Teatro Verdi diventerà. Per il suo restauro e la sua futura gestione, la regione ha stanziato circa 3 milioni di euro, soldi che stanno servendo per i lavori, che dovrebbero terminare entro l'anno, ma che serviranno anche per la creazione di un laboratorio creativo. Formazione e informazione digitale gratuita di adulti e bambini della città, ma anche sviluppo e innovazione. Il resto dello spazio dell'ex Teatro dovrà diventare una sorta di piazza coperta, uno spazio polivalente dove ospitare collezioni temporanee, eventi legati ai festival cittadini, in particolare sul tema della mobilità e del turismo sostenibile. A gestirlo dovrà essere un privato scelto attraverso un bando che il Comune sta mettendo a punto. Una gestione impegnativa sotto il profilo dei costi, ma anche dal punto di vista economico, visto che il privato che interverrà dovrà farlo con il 51% del totale della spesa prevista. Si è da pochi giorni concluso intanto un avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato che ha visto la partecipazione attraverso la candidatura di tre manifestazioni di interesse, la ETT SPA di Genova, la Fondazione Giacomo Brodolini di Roma e un gruppo di lavoro informale composto da Chilovat Società Coop di Bologna, Dynamo Socce Coop di Bologna, Avanzi SRL di Milano e Antonio Puglisi di Bologna. Anche partendo dagli spunti offerti da queste realtà, verrà dunque messo a punto il bando che, ha voluto sottolineare l'assessore Maisto, dovesse andare deserto, vedrà come passo successivo la gestione diretta da parte del Comune di uno spazio così importante per la città. E adesso da Ferrara andiamo a Bologna perché a martedì sera è stata inaugurata la rassegna concertistica della Soffitta organizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale, il Saggiatore Musicale. Vediamo dunque il primo appuntamento. Dal classicismo alla modernità attraversando alcuni dei capolavori della musica per pianoforte tra virtuosismo ed intensa espressività. È stato questo il tema del concerto inaugurale della rassegna concertistica La Soffitta che si è aperta a Bologna il 13 febbraio nella suggestiva cornice dell'Aula Apsidale di Santa Lucia. Protagonista della serata il pianista italo-romeno Cosmin Boeru, cresciuto a Ferrara, che da anni vive in Germania, a Colonia. Il recital si è aperto con la fantasia in dominore K475 di Mozart composta nel 1785, il cui tono a tratti cupo e serioso ha fatto da preludio al trittico di Gaspar de la Nuit, il ciclo di tre fantasia alla maniera di Rembrandt e Calot che Ravel scrisse nel 1908 con il dichiarato intento di realizzare una nuova forma di virtuosismo trascendentale. Il concerto si è concluso nel nome di Chopin, la sonata in si bemolle minore opera 35 preceduta dai due splendidi notturni opera 48, numero 1 e opera 9, numero 1. e opera 9, numero 1 un repertorio impegnativo sotto il profilo tecnico ed espressivo che Cosmin Boeru ha saputo interpretare con intensità riscontrando il vivo apprezzamento di un pubblico numeroso e preparato. ed è tutto per questa edizione delle 13.30 vi ricordo che il TV giornale torna alle 19.30 e tutti gli aggiornamenti li trovate anche su telestense.it grazie dunque per averci seguito appuntamento alla prossima edizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti